Bari del nostro cuore, non dirageremo, adesso vado, Bari Ternara, ecco l'isana entranita, e vedo, fai, vedo che sono Gini Cintube, oggi siamo qui per continuare, per fare partita Bari Ternara, questa partita sarà epica per vedere se il Bari vince, ma va almeno uno da Ternara, che sesso, dai, 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 in condizioni normali avrebbe portato al San Nicola almeno 25.000 spettatori, la pandemia invece obbliga alle porte chiuse, ma la posta in palio è comunque altissima, amici sportivi, buonasera dallo stadio San Nicola di Bari, in diretta su serie CTV, ospitato sulla piazza di Bari, ragazza finita la partita, Bari Ternara, tra pochini, secondi, c'è finita la super partita, la super partita, la super partita di Bari Ternara, si meriti tutto male, e non c'è Auteri che ha il Covid, da sinistra a destra, aspettiamo che guarisca, forza mister Auteri, forza mister, è vero, ma papà, hai messo le notifiche, da destra a sinistra, e partita di Bari Ternara, è il primo pallone del...